Cos'è un vero amico? Considera quell'amico che dice sempre la verità, anche quando è difficile da ascoltare. Sono diretti, non usano mai mezzi termini, né girano in punta di piedi attorno ai tuoi sentimenti, anche se a volte bruciano. Questa persona non è affatto un problema. Al contrario, gli amici che ti guardano in silenzio mentre percorri un percorso distruttivo, rassicurandoti che tutto va bene quando non è così, sono quelli che in realtà ti deludono. Gli amici più preziosi sono quelli che ignorano ciò che vuoi sentire e si concentrano su ciò che hai bisogno di sentire, mantenendo la completa onestà in ogni momento. Questi amici potrebbero essere difficili a breve termine, ma a lungo termine sono quelli che apprezzerai di più per il loro interesse autentico e genuino. Hanno a cuore i tuoi migliori interessi, spingendoti a raggiungere il tuo pieno potenziale e a diventare la persona che credono tu possa essere. Non sono solo amici, sono i tuoi campioni personali che ti guidano incessantemente verso la crescita e il successo. Lascia un cento nei commenti se sei d'accordo con me e ricordati che se non mi segui e non hai ancora visitato il sito nisida.tech, probabilmente stai perdendo l'opportunità di connetterti con me. Se invece hai fatto queste cose, congratulazioni, stai crescendo mentalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.